È Giorgio Vasari a raccontare che Pietro Lorenzetti venne chiamato ad Arezzo dal vescovo Guido Tarlati per affrescare la tribuna e l'abside della pieve di Santa Maria, dipingendo 12 storie della Vergine culminati nell'assunzione. Quello che oggi noi conosciamo come il politico del Lorenzetti e che viene conservato all'interno della pieve, tra le icone rappresentate c'è anche quella di San Donato, è in fase di restauro. All'inizio si pensava a 60.000 euro circa, perché dovevamo semplicemente rimuovere l'ultimo restauro che era stato fatto negli anni 70, essendo materiali recenti non presenta problemi di tipo particolare. Un restauro iniziato per volontà di privati nel 2014 che si è dilatato molto sia nei tempi che nei costi, perché dopo una prima indagine si è deciso di procedere al microscopio per pulitura e stuccatura. Viene riacquistata la luminosità dell'oro, grazie anche appunto alla pulitura di tutte le incisioni che consentiranno di far brillare maggiormente la superficie dorata. E stiamo rimuovendo sempre al microscopio lo sporco che è sotto il restauro del 76, che è uno sporco disomogeneo ma diffuso e che appiattisce i chiariscuri pensati e realizzati da Pietro Lorenzetti. L'opera è molto delicata, quindi noi quando facciamo la stuccatura mettiamo del gesso sopra il livello e poi con il bisturi andiamo a rasare lo stucco per arrivare al livello. Questo lavoro di rassatura se non è fatto sotto controllo al microscopio rischiamo di sciupare il dipinto, di graffiare il dipinto e quindi viene fatto in questo modo al microscopio. Il restauro che dovrebbe terminare entro il 2019 costerà complessivamente 300.000 euro. Tra i finanziatori ci sono anche privati ed è possibile ancora contribuire attraverso l'associazione Art Angels. Alle mie spalle vedete le parti quasi finite, c'è ancora un po' di integrazione pittorica da fare, le due ultime tavole sono in lavorazione, sono molto avanti e quindi noi siamo certi che finiremo entro quest'anno. Nel mio caso ho deciso di adottare i due santi che sono lì, che sono un San Vincenzo, mia mamma si chiama Vincenzo ed è una storica dell'arte quindi ho pensato un po' a lei, e San Luca Evangelista. Il sito di Art Angels è www.artangelsarezzo.org e lì si trovano tutte le notizie sia sull'associazione che sul politico e le modalità per partecipare alle nostre iniziative. Grazie. Grazie.